Andiamo a ricominciare su quelle piccole cose, ma che fanno tanto di silenzio. Fai quel feedback, grazie. Buongiorno a tutti e buona domenica, perché ricordatevi che ogni giorno Marco Domeniconi vi accompagna alla scoperta di suoni e ritmi raramente ascoltati altrove. Ogni giorno Domeniconi e Marco vi accompagna alla scoperta di suoni e ritmi raramente ascoltati altrove. Stiamo trasmettendo la musica di Marco Domeniconi. Oh, 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 oh. Marco vi accompagna la scoperta di suoni e ritmi raramente ascoltati altrove. Ste canzoni ripassa Marco e Domeniconi e ne che si intitunne chi è. Ste canzoni ripassa Marco e Domeniconi e ne che si intitunne chi è. E da lì, insomma, poi l'ho segnalato a un mio amico DJ e ha colpito anche lui. Quindi da lì è nata la nostra amicizia. Sì, infatti è questa cosa che volevo raccontarti, Alberto. Che poi grazie a lui sono stata inserita in diverse radio di Max Mara e Luigi in Italia e in Europa. Che appunto, grazie a questo sound designer Marco Domeniconi, che salutiamo ma non penso che ci sia ascoltato, perché lui è molto preso, gira tantissimo. E poi lui, appunto amico di Gabriele, infatti Gabriele veramente ti ringrazio ancora tanto per questa cosa. E niente, con lui poi è stata anche un po' una cosa molto simpatica perché mi ha suggerito, mi ha detto Ma perché Margherita non prova a fare un po' un genere dance? Mi ha dato qualche esempio, no? Stimolo, eh? Sì, e mi ha detto prova dai, fai questo genere che è folktronic, che sarebbe una musica folk elettronica, quindi un po' dance, un po' così. E io ho provato appunto, gli ho mandato qualche brano che adesso penso che utilizzerà in qualche sfirata, speriamo. Ogni gnonno Marco Domeniconi, mi accompagna un tuo viaggio, di musica nuova, di cose che noi non potremmo manco immaginare. Allora, grazie per tutta l'estate perché avete allietato tutte le mie e le nostre serate, sei bravissimo perché è una cultura musicale veramente costa, quindi grazie. Quello che mi piace è che riusci a corrispondere il brano giusto alla giusta situazione, e riusci a cogliere quei suggerimenti come il momento, da anche solo su titoli, parole o sensazioni che ci sono sul momento. E riusci a rispondere in maniera quasi immediata, in realtà. Grazie, molto sento. Figlioli, stiamo sentendo la musica di Marco Domeniconi. Figlioli, stiamo sentendo la musica di Marco Domeniconi. La musica è iniziale, è molto buona. Da Canada. Da California. Oh, è un nuovo Canadian. Buongiorno a tutti e buona domenica, perché ricordatevi che ogni giorno Marco Domeniconi vi accompagna alla scoperta di suoni e ritmi raramente ascoltati altrove. Di ogni giorno Marco Domeniconi vi precarava per un passaggio di un passaggio per la nuova musica. Questo è la musica di Marco Domeniconi. Ogni gnonno Marco Domeniconi ne accompagna un viaggio la musica nuova le cose che noi non potremmo manco immaginare ogni gnonno Marco Domenogoni ogni gnonno Marco Domenogoni mi accompagnano un viaggio di musica nuova di cose che noi non possiamo nemmeno immaginare non solo questo, ma il tempo, l'era il gruppo, l'ora si, 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 l'ora grazie per questa indicazione si, un piacere ti piace la musica? ciao Domenogoni ti piace la musica? ti piace la musica? no mi piace la musica mi piace la musica